Sindaco, grande vittoria per i fondi che arriveranno dal governo, c'è qualcuno che dice invece che sarà un altro aggravio di spese per il popolo napoletano? È la prima volta che sento dire che il governo stanzia un miliardo e 300 milioni e questo è un aggravio di spese, quindi penso che questo è un grande passaggio perché la situazione finanziaria della città la conosciamo tutti, deriva da tanti anni di difficoltà, adesso parte una nuova stagione, chiaramente anche la città è chiamata una responsabilità perché c'è stato un atto di solidarietà e quindi adesso noi dovremo dar prova di essere all'altezza di questa sfida.